Salve, sono Gloria Petrucci, Vice Coordinatore Italia Camp Marche, con Delega Rapporto Università e Centri di Ricerca. Oggi siamo qua all'Università Politecnica delle Marche per lanciare la terza edizione del concorso La tua debita il paese in vista di USA Camp. E quindi ci stiamo occupando di reperire dei progetti e delle idee di ricerca e di alta innovazione che nel mese di novembre, dal 6 al 9 al 16 novembre del 2013, porteremo negli Stati Uniti d'America. A Washington porteremo delle idee di polisi e a New York delle idee di minister. Oggi per noi è una data importante in quanto l'anno scorso, nella seconda edizione del concorso la tua debita il paese tra le idee vincitrici, ce n'è stata uno di uno spin-off dell'Università Politecnica delle Marche. L'evento che faremo la prossima settimana, il 18 aprile del 2013, all'interno sempre di questa Facoltà di Ingegneria, sarà un evento rivolto a tutte le Facoltà della Politecnica delle Marche e lì avremo l'occasione di avere con noi tutti i presidi della Facoltà dell'Università Politecnica e lì lanceremo il concorso e daremo tutte le informazioni, tutte le spiegazioni di come funziona la partecipazione al concorso. Se hai un'idea di ricerca e di alta innovazione che può avere anche un'ottica di internazionalizzazione, ti aspettiamo qua, che sono qui, nelle 10 aprile, alla facoltà di Ingegneria, dell'Università Politecnica delle Marche, dove potremmo darti tutte le informazioni sul cubo e scambiarci le informazioni reciproche. Questa è un'ottima cosa che potete giocare.